Una settimana di preparazione verso il Pisa che si è conclusa qui in mattinata con l'abbraccio bello dei tifosi all'antistadio. Bello con emozione, quello di cui la squadra ha bisogno e domani dobbiamo, tocca a noi. Un allenamento appunto davanti ai tifosi, c'erano anche Ganza e Pazzini, come stanno i due attaccanti? Settimana un po' particolare per entrambi, anche se Simone ha concluso la partita a Vercelli, in questa settimana ha messo solo due giorni di lavoro nelle gambe. Mentre Pazzo porta dietro ancora questo suo problema, avremo ancora 24 ore per valutarlo, ma sarà Pazzo a dare e faremo una valutazione sull'ultimo perché non vogliamo rischiare nulla. Tornando all'avversario che affrontiamo domani, il Pisa, che ha vissuto una settimana particolare, è una squadra solida e che con quello che ha passato magari si è stretta ancora di più attorno al proprio allenatore. Sì, loro vivono dall'inizio dell'anno che vivono questa situazione, sarà una partita impegnativa, una squadra che è una delle migliori difese. Noi dobbiamo essere bravissimi, determinati e capaci di sfruttare le occasioni che ci capiteranno perché si chiuderanno molto bene. Ma noi dobbiamo fare una partita di grandissima determinazione e sono convinto che con la spinta del pubblico, per quello che si è visto oggi, la squadra risponderà alla grande. Grazie. Grazie.